È stato quasi sicuramente un cortocircuito a causare l'incendio che lunedì pomeriggio a Cesena ha distrutto gran parte del cappannone della Technojet. L'azienda, situata nella zona dell'ex foro Boario, è specializzata da più di 20 anni nella lavorazione dell'inchiostro, in particolare nella produzione e distribuzione all'ingrosso di materiale per stampanti, toner e cartucce. Le prime scintille che poi hanno alimentato il rogo sono state viste scaturire dal retro di un armadio a muro vicino ad alcune prese elettriche. La furia del fuoco ha risparmiato solamente la zona uffici dell'azienda. I danni ammontano a 70-80 mila euro di materiale bruciato ai quali si aggiungono all'attrezzatura distrutta e i gravi danni alla struttura del cappannone. Il tutto ammonterebbe ad oltre 400 mila euro. Al momento del divampare delle fiamme, attorno alle 16 di lunedì, stavano lavorando cinque operai e il titolare. Sono stati loro a dare l'allarme. Le fiamme hanno trovato facile esca tra i diversi materiali infiammabili presenti nella struttura, in breve avvolta dal fuoco e da un denso fumo. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco, che giunti da Cesena e Forlì con una decina di uomini e cinque mezzi, tra i quali una speciale cisterna di 25 mila litri di acqua, sono riusciti a circoscrivere il ruogo prima che intaccasse altre strutture nelle vicinanze. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato. Lo stabile della Technojet è stato dichiarato inagibile posto sotto sequestro per gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine.